buonasera a tutti i ragazzi sono luigi un narrato per vita che dovremmo essere l'ultimo episodio il bar osghetto comunque davvero alla fine peccato per qualche quest non trovata ma ecco il team andremo con loro alla fine ho già buttato alcuni potenziamenti andiamo sì le ultime due quest penso che si faranno qua ci manca la fin fine solo quella dei pg che mi son portato dietro un'avventura di quasi cento ore ragazzi mi dispiace non aver compiato al cento per cento ma avremo un modo grazie un'avventura di più 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 ok 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 abbiamo buscato bella sangue c'è un po' deve essere semplice I have a lost on my mind, and, well, in it. Oh, my head is pounding. Can't be far now. Fulfill. Execute. Obey. Fulfill. Desire. Transform. Desire. Transform. Desire. Fulfill. Transform. Okay. Deathly silence. It's close. Your blood slows. It's close. It's close. It's close. God. You think you know why you are here. You think that by killing the chosen and taking the nether stones, you can destroy me. You are wrong. You are wrong. What is this? This is a banana. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. assi ok ok Per eliminare Cetric, Orin e Gord, esattamente, il corno è ora mio. Non ascoltare. Focasi sul corno. Per eliminare Cetric, Orin e Gord, esattamente, il corno non è vero. Per la malattia, ho bisogno del corno per costruire. Non avrebbero l'avereo soltanto, che avrebbero avuto il suo passaggio. Non lo permettere. Inoltre, dominare! E' cristo nelly needy one neverstone lusent from the chosen's grasp to guarantee my you brought all this was your role now you will can't afford to let that happen Questo non è tutto. Grazie a tutti 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 Interessante Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Mezzo Buono Grazie a tutti 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 Non mi interessa Grazie a tutti 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 Così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti